Buongiorno, come è andata? Benissimo, benissimo Considerazioni in generale sulla gara? Sua mia gara? Esatto Ho sempre delle difficoltà sul tempo Chiacchiero troppo all'inizio e mi piace piacchierare e anche dopo Mi piace presentare quello che faccio Perfetto Quindi riesco sempre... La persona è iniziata per la musica che distingue l'anima di ogni marito 3 anni fa mi è costata la finalistica, 6 secondi delle caratteristiche di caffè Adesso un bel principio, chiudo sempre 15 minuti Perfetto 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 E questa l'esperienza punta direttamente alla vittoria quest'anno? Decisamente Ottimo La nostra domanda di conseguenza è ci porterebbe con lei a Bogotà in tal caso? Assolutamente sì Perfetto, molto gentile A posto? Sì Grazie Grazie Grazie